Musica Telespettatori ben ritrovati con l'informazione di Terediogene stamane, lavoratori di Acros in rivolta presso il comune di Crotone. E' aperto un punto. Non hanno fatto buoni risultati o cattivi risultati, ancora un atto ufficiale su questo incontro non c'è. Qualcuno dice che martedì la situazione dovrebbe sbloccarsi. Comunque stamattina i camion dell'Acros hanno bloccato Piazza della Resistenza, hanno circondato il comune e sono davanti al comune insieme a Cigel e Guil che sono i due sindacati di riferimento di questi lavoratori e stanno chiedendo di poter entrare all'interno del palazzo comunale. Il palazzo resta chiuso. Allora è arrivato il sindaco. In qualunque momento, del giorno, dell'ora e del giorno. Sempre che siete voluti venire siete trasluti liberamente senza aver nessuna difficoltà. Ma Sancioca che significa? Allora cacciamo Ancioca. Cacciamo Ancioca. Andiamo a Carassettare. Il nostro sindaco. Il nostro sindaco. Il nostro sindaco non è un simbolo. Allora Giuseppe, facciamo una cosa. Andiamo insieme a Consigliere. Con la legge, con la legge, come non esiste? Non esiste. Perché ditemi la motivazione che non esiste. In questo momento ho ricevuto. Ditemi la motivazione che non esiste. Giuseppe, in questo momento ho ricevuto. E quale momento ho ricevuto il prefetto che mi ha confermato che in queste condizioni non è possibile. E allora voi potete richiamare chi vi ha chiamato a voi e dire io me la vedo io in bella... E come no? Me la sono sempre vista io e continuo a... E oggi voi? E anche non ne frega il prefetto. No, no, non c'è il prefetto. Noi Fabio non è normale, non è normale assolutamente. Ma olivo non parliamo di voi. Siamo parlando di normale, pacifici. C'è bisogno di fare la terma di sito, o è che? O sono toto la chiesa. Allora, allora, sto venendo all'azienda. Sto venendo all'azienda. No, parliamo di casa, non all'azienda. Assolutamente no. Non parliamo di siste. Assolutamente no. Allora fate le cose. Non esiste. Ma perché? Ma perché non è normale? Non è normale. E fate le cose non era ad ammazzare gli mazzacà. Perché io preferisco farmi ammazzare gli mazzacà e non sapere niente. Voi fate fare la cazza da cortesia mentre se ne cade andiamo a parare. Pacificamente con la legge, con la legge. Se è pulito stamattina. Abbiamo dei dubbi, noi andiamo con la legge. Nulla da togliere al comune di Crotone. Attenzione. E l'abbiamo ribadito sempre. L'abbiamo ribadito sempre. Noi vogliamo altre risposte. Noi vogliamo altre risposte. Noi vogliamo altre risposte. È vero, ma sì. Dobbiamo ringraziare il comune di Crotone noi. Perché abbiamo un presidente che non ci dà nessuna comunicazione in atto. Noi la vogliamo dal nostro sindaco. Noi la vogliamo dal nostro sindaco. Un impegno preciso. Parabere se ne dormi a dire. Parabere se ne dormi. S'ha affonuto. L'acro si è affonuto. L'acro si è affonuto. Cosa mi estanno noi. Signor sindaco, cosa mi estanno noi. Acro ha fuori fatta cara. Nelle condizioni che adesso. Acro si può compiare. Acro si manca il sistone, ci è una tabella. ma scusa Mario ma non c'è che ne porti in una sala consigliare un problema qual è? che io voglio dire l'azienda ma no signor sindaco l'azienda non è detta prendere voi è una Bertola l'azienda no è una Bertola Marcelli sa anche una cosa chiamate a Barberi chiamate a Barberi chiamate a Barberi ma che non è fuga tu prefetto stiamo sempre parlando con me stamattina abbiamo fatto il bordello ma noi stamattina abbiamo fatto il bordello abbiamo fatto il motocrazio cacciate le cannaveri e allora qual è un problema? si fa sotto a cammens a buio ma forza di sopra noi restiamo a macchina ci sono più 14 però noi vogliamo parlare noi vogliamo parlare con voi al gioco non è personale chiedo scorsa non era rivolta a noi a ricambi a ricambi a ricambi dopo che non vorremmo parlare andiamo ma perchè non lo ha di cacciare prima perchè non lo ha di parlare prima con me e dopo di cacciare non è lo contrario che io stai sempre ricevuto senza cammi e stamattina vanno pure i cammi perché? signor sindaco da premettere da premettere e noi siamo sempre trascosti da premettere noi abbiamo già fatto gatto e noi dobbiamo fare i servizi noi dobbiamo fare i servizi facciamo un incontro facciamo un incontro facciamo un incontro spostate i mezzi spostate i mezzi il sindaco ha detto in maniera Questo spettacolo dei camion che hanno accerchiato il comune non lo posso condividere, spostati i camion altrimenti io non vi ricevo e sono disponibile a venire in azienda a incontrarvi. Adesso si discute dove portare i camion, dove spostarli e poi ci sarà l'incontro con il sindaco. Stavo dicendo prima che scendesse il sindaco che c'è stato da parte della società che riscuote i tributi il blocco dei fondi che sono destinati dai comuni alla Crea e ieri c'è stato l'incontro in brevettura. Ecco, l'incontro in brevettura come è andato? L'incontro in brevettura sono tutti gli altri incontri. Si cerca a volte di placare quelli che sono gli animi ma qui c'è poco da placare. È una situazione che si protrae per troppo tempo in quanto è una cosa che non si conosce da oggi ma da diverso tempo. È normale, Equitalia per conto di alcune aziende che sono creditrici verso... Soprattutto dello Stato. Dello Stato, soprattutto dello Stato. È ovvio che avendo versato delle somme relative all'azienda per il lavoro che fa ma se tu devi dare dei soldi ad altri è normale che fra questi soldi ci sono gli stipendi dei lavoratori. Mi sembra un'assurdità incredibile ma il problema è molto più serio. Il problema è il futuro di questa azienda in previsione di questo soggetto unico che stanno pensando di realizzare a Crea e a Acros. Se ne parlate di diverso tempo ma... E' la legge, più che si discute la legge, la volano la legge. E' la legge ma no, la mia era solamente un sottolineare, una questione che alcune cose le conosciamo solamente per sentito dire. Allora, quanti lavoratori sono? Sono quasi 80 unità lavorative. Sono quasi 81 unità lavorative che di fronte a questa crisi provocata dal blocco delle competenze economiche da parte di Equitalia rischiano davvero grosso in questo momento. Questa è la cosa. Rischiano davvero grosso e lo manifestano come al solito con grande responsabilità e civiltà. Perché nonostante i ristardi e le nefandezze che sono state fatte dalla società Acros nella giornata di ieri rispetto al pagamento di stipendi che ne sono stati pagati soltanto 20, oggi sono qui a manifestare perché sono preoccupati del futuro. E quella la verità, non è tanto lo stipendio, il ritardo di qualche giorno nel pagamento dello stipendio. No, 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 sono proprio preoccupati per il futuro di questa azienda che è messa alle porte perché è una situazione economica disastrosa, ha dei mezzi inefficienti, ha gli istituti di riscossione dei crediti col fiato sul collo. Oggi siamo qui a chiedere al sindaco di incontrarci. Il sindaco ha detto che vi incontrerà nel momento in cui saranno... Si stupisce di un'azione di protesta, questo lo trovo davvero paradossale nel momento in cui è dall'inizio dell'anno che si susseguono le richieste verbali, scritte e forse anche in mezzo alla strada delle organizzazioni sindacali rispetto alla questione della gestione unica. Una posizione politica già assunta in questa direzione perché come dicevi bene prima tu c'è anche una imposizione della normativa al riguardo. La nuova legge dice che devono sparire 9.000 aziende partecipate, 9.000. Questo rappresenta una doppia opportunità importante. Da 10.000 a 1.000 devono diventare. Rappresenta un'opportunità importante per la provincia di Cotone per due ragioni fondamentali. Oggi i lavoratori sostengono questa tesi. La prima è la salvaguardia dei livelli occupazionali perché altrimenti se aspettiamo Acro schiuderà e sarà più complicato gestire il futuro di 80 famiglie. La seconda forse di non meno importanza è finalmente una risposta in termini di qualità e servizio di raccolta di rifiuti ai cittadini che lo pagano quotidianamente. I cittadini pagano ma il servizio è molto scarso. Allora stanno spostando i mezzi quindi hanno accolto la richiesta del sindaco, adesso spostano i mezzi e il sindaco li riceverà e vediamo insomma quello che succederà dopo. Ieri c'è stato questo incontro in prefettura sul futuro dell'ACROS. Com'è andato Vallone? Intanto c'era una criticità che era sorta da qualche giorno e c'è stato il coinvolgimento del prefetto perché riguarda una transazione fiscale riferita alla procedura di concordato che è pendente e che riguarda ACROS. La transazione fiscale riguarda naturalmente IMSI, Nail in particolare. Sono le tasse che la società avrebbe dovuto pagare allo Stato. C'è in corso una transazione fiscale. Questa transazione fiscale sta avendo delle lungaggini e ha prodotto tra l'altro anche il blocco di Equitalia. Quindi l'incontro di ieri ha riferito a vedere, di far verificare le condizioni proprio con l'intervento del prefetto, di rimuovere il blocco di Equitalia perché in questo momento i comuni che dovessero pagare le prestazioni ad ACROS le incamera direttamente Equitalia e non vanno ad ACROS. E quindi il problema non si risolve? E quindi il problema non si risolve. Questo, il presto di posizione del prefetto, questa disponibilità del prefetto sta aiutando questo percorso, tant'è vero che ieri abbiamo fatto l'annunione, mercoledì pomeriggio ce n'è un'altra proprio per avere conferma. Quindi c'è la possibilità che si sblocchi la situazione? Ci sono tutte le condizioni e diciamo le direzioni provinciali hanno dato la piena disponibilità e si sono presa la giornata di oggi per avere la disponibilità anche delle direzioni regionali. Domani si rifarà il punto, mercoledì pomeriggio si rifarà il punto proprio di questo risultato che apparentemente le direzioni provinciali hanno dato la massima disponibilità per cui dovrebbe diciamo... Il problema comunque non è nemmeno questo, quello che dicono i lavoratori, i sindacati... L'altro capisco che è il futuro dell'azienda e sul futuro dell'azienda è evidente che ci vuole un ragionamento ampio. Noi stiamo lavorando su più fronti come comune perché ci rendiamo conto che due società che si occupino di rifiuti nella città di Crotone e nel territorio provinciale ormai non ha più... Ma credo che lo sappiano pure loro, cioè loro dicono noi vogliamo la certezza che nella nuova società ci sia anche il nostro posto di lavoro. Il sforzo è molto semplice, se fossero 15 dipendenti la certezza sarebbe stata immediata. Non siamo di fronte a 15 dipendenti, siamo di fronte ad un organico... 80 persone, 83 persone... Che ha un certo numero e in questo momento addossare 80 persone al comune di Crotone significherebbe far esaltare anche il comune di Crotone. Dove stiamo lavorando? Stiamo lavorando con qualche altro comune per ripartire questi maggiori costi con questa maggiore persona... Ma soprattutto sull'impianto di Pondicello, sulla gestione dell'impianto di Pondicello. Su questo ci siamo impegnati nella legge regionale, abbiamo fatto inserire nella legge regionale... Voi avete chiesto la gestione, quindi se c'è la gestione dell'impianto di Pondicello. Riusciamo a dare, pur con una serie di difficoltà, ma comunque riusciamo a dare... A mantenere i livelli di occupazione. A mantenere i livelli di occupazione senza mortificare nessuna famiglia e nessun padre di famiglia. Stiamo lavorando su questo percorso molto intensamente. E' evidente che non è un percorso che con le schiocche in 24 ore si risolve. Abbiamo avuto necessità di una legge regionale e a fine legislatura l'ultimo atto del Consiglio regionale siamo riusciti ad averla. All'interno di questa legge regionale è prevista l'affidamento in AOS a società pubbliche e degli impianti pubblici. Quindi sul piano giuridico adesso la possibilità c'è ed esiste senza nessuna gara è possibile l'affidamento. Quindi se riusciamo a definire questo percorso all'interno di questo percorso c'è anche la risposta per i livelli di occupazione. C'è la risposta qui. Non è semplice, non è però insomma è un lavoro molto intenso che stiamo conducendo da più anni perché la legge regionale è stata modificata all'ultimo momento grazie a tutti i comuni calabrese e a Lanci Calabria perché questa ipotesi non era prevista nella legge regionale, è stato un emendamento fatto dal Lanci che è stato accolto sia dall'amministrazione che dal Consiglio regionale. Quindi è un percorso sul quale abbiamo lavorato intensamente e adesso dovremmo cominciare a raccogliere frutti. Questi discorsi i lavoratori di linea di massima li sanno perché più volte sono venuti, sono stati ricevuti, sono stati accolti. Quindi l'informazione, se vogliono l'informazione ufficiale non con le modalità che hanno utilizzato ma loro hanno sempre trovato il comune, la porta del comune aperta in tutte le ore del giorno e molte volte anche di sera tardi quando era impegnato durante il giorno. Quindi voglio dire, questo attivismo che non ha in questo momento senso trae, è giustificato dalla tensione complessiva che c'è anche degli stipendi, cioè è giustificato, trova piena giustificazione ma le modalità debbono avere sempre un certo. Il ragionamento del sindaco non ha convinti i lavoratori che hanno deciso di occupare la sala consigliare. Qual è il ragionamento che ha fatto il sindaco? Dobbiamo andare alla fusione della società, 150 lavoratori, la città di Crotone non li può pagare per interno, non li può pagare però potrebbe esserci una soluzione, la soluzione che prospetti il sindaco è questa. C'è una legge regionale che prevede l'assegnazione degli impianti regionali, quelli pubblici, ai comuni, l'impianto di Ponticelli l'abbiamo chiesto noi, se ce lo danno in gestione una parte dei lavoratori che non stanno all'interno del nuovo contenitore della società unica viene assorbito da questo impianto di Ponticelli. Un'altra parte, perché nemmeno in questo caso riusciranno a trovare risposta occupazionale tutti quanti, un'altra parte se ne devono fare carico 4 o 5 comuni più grandi del territorio, quindi in questo modo nell'arco di 7, 8, 10 mesi, continuando a mantenere le due società senza licenziare nessuno, in questo caso i lavoratori potrebbero avere la risposta occupazionale. Questa idea rappresentata dal sindaco ai lavoratori non li ha convinti che vogliono immediate risposte, vogliono le risposte immediate. Il sindaco è andato via e i lavoratori hanno deciso di occupare la sala consigliare. Politica, elezioni regionali si avvicina alla data del 23 novembre, cominciano a uscire fuori i primi nomi dei candidati a consiglieri. Il documento per dire no alla candidatura della figlia di Enzo Sculco in una delle liste che appoggiano Mario Oliverio, candidato del centro-sinistra, è stato già in parte sottoscritto. È stato sottoscritto ieri da molti sindaci del territorio, oggi sarà portato all'approvazione da parte della direzione provinciale del Partito Democratico. Da quello che abbiamo raccolto in giro, su questo documento pare ci sia l'unanimità di anche la componente Oliverio, abbiamo parlato con Giancarlo Devona che è uno dei referenti di questa componente, è pronto a votare questo documento e a sottoscrivere questo documento. Dove sarà mandato? Sarà mandato alla direzione nazionale del partito. E si chiedono, alla direzione nazionale del partito, si chiedono due cose. Perché un documento simile pare sia stato predisposto anche nella provincia di Vibo Valenzi. riguarda anche Vibo Valenzi la circoscrizione Catanzaro-Crotone-Vibbo. Anche lì hanno il problema di Gaetano Bruno, della candidatura di un'altra persona che non sarebbe gradita al Partito Democratico. A Crotone c'è la figlia di Scurc, nella provincia di Vibo ce n'è un altro. Insomma, tutti e due con la stessa lista. Con la lista di questo centro democratico che vede un senatore della provincia di Cosenza quale referente regionale, il senatore Bruni. Allora, c'è tutto questo movimento, quindi oggi il Partito Democratico deciderà in questa direzione, in attesa che si sblocchi il ragionamento anche sulla composizione delle liste. Perché il Partito Democratico ufficialmente ancora è bloccato. A qualche giorno, perché non scadono il 23, dopo domani la presentazione delle liste, ma sabato. Entro sabato dovrebbero essere presentate le liste e ancora il Partito Democratico è fermo su questo ragionamento delle alleanze. E' un partito bloccato, che se non vede quello che deve fare rischia di perdere le elezioni anche se le proiezioni lo danno vincente. Allora, gli unici ad aver già concluso tutte le operazioni, lo diciamo, sono quelle di 5 Stelle. L'Udc è quasi sparito in Calabria. Si pensava ad un terzo polo formato da Udc e nuovo centro-destra. L'Udc si è spaccato, perché Trema Terra, lo stesso Alfonso Dattolo di Crotone, sono confluiti in Forza Italia, saranno candidati con le liste di Forza Italia, con liste o di Forza Italia o parallele a Forza Italia. E quindi l'Udc si spacca in due. E una parte dell'Udc, dovrebbe andare col nuovo centro-destra, ma sono ancora in alto mare, e il centro-destra. Il centro-destra, ieri, Forza Italia ha fatto, la coordinatrice regionale di Forza Italia, Iole Santelli, ha riunito i colonnelli del partito, i dirigenti del partito, e è stato fatto il primo ragionamento ufficiale sulle candidature. Per quanto riguarda Crotone, com'è la situazione? Ci sono sei posti, perché le liste che presenterà Forza Italia a sostegno del candidato a presidente, sono tre. Una, siglata Forza Italia, l'altra, Casa delle Libertà, e l'altra, Lista del Presidente. Il centro-destra dovrebbe avere anche i Fratelli d'Italia come quarta lista. E allora, andiamo nel merito delle candidature di Crotone per quanto riguarda la vicenda di Forza Italia. Sicuramente in Forza Italia, a meno che non si ritirano gli interessati, ci sono Salvatore Pacenza in quanto uscente, e Cataldo Calabretta, un avvocato di Ciron Marina, che è un dirigente di Forza Italia molto riconosciuto, pare che Iola Santelli sia stato a proporlo, perché dice un nuovo e un giovane, e quindi dovrebbe portare consensi sul suo nome. Poi, gli altri candidati che hanno dato la disponibilità, Alfonso Dattolo, Ottavio Tesoriere, Umberto L'Orecchio, Gianluca Bruno, Umberto L'Orecchio è il sindaco di Pallagorio, Gianluca Bruno è il sindaco di Sola Caporizzut, Maria Concetta Guerra, e poi c'è Zurlo, Stano Zurlo che non si capisce se sarà candidato con le liste del Presidente, che appoggia Vandaferro direttamente, oppure con Fratelli d'Italia. Ancora non ha sciolto questo nodo. Comunque, i candidati con Zurlo sono otto, e se tutti chiedono di candidarsi nelle tre liste di Forza Italia, due dovranno essere sacrificati. Quindi, di sicuro, Pacenza e Cataldo Calabretta, in Forza Italia. Poi Dattolo si candida con la Casa delle Libertà. Tesoriere, Ottavio Tesoriere, già consigliere regionale di Forza Italia, qualche legislatura fa, poi non è stato più rieletto, ha chiesto di candidarsi con Forza Italia attraverso il Mir, ha chiesto di essere inserito, ma gli è stato detto uno secco, se vuole candidarsi deve scegliere di candidarsi, o nella Casa delle Libertà, o nella lista del Presidente. Poi ci sono Umberto Lorecchio, Bruno, Maria Coggetta Guerna, e Zurlo, come abbiamo detto. Siamo al rasci finale, e ancora molte delle questioni che dovrebbero essere state già dipanate, sono in alto mare, con tutti i problemi. Quello più difficile per l'uno o per l'altro, da digerire se vogliamo, o da inserire, se la vediamo da un'altra ottica, è quello che riguarda la candidatura di Flora Scurco. Perché è difficile questa candidatura? Perché i democratici che candidano a Flora Scurco sono stati, sono stati finora, nella lista, nella giunta regionale di centro-destra, di Scopelliti, hanno espresso Franco Pugliano, uno degli assessori più importanti, che è quello all'ambiente. Bene, il Partito Democratico, per conto dello stesso Riverio, hanno detto che non ci sarebbe stato posto per quelli che provenivano dall'esperienza di centro-destra, è stata chiusa la Saracinesca all'Udc e al nuovo centro-destra, mentre si apre il portone per la figlia di Scurco, non si fa lo stesso ragionamento. Anche la figlia di Scurco deriva dal centro-destra. È questo che dicono i dirigenti del Partito Democratico di Crotone e il ragionamento non fa una piega. Solidarietà di Ance e Crotone, all'imprenditore Cannavale, ancora una volta, a distanza di pochi giorni, esprimiamo solidarietà all'ennesima impresa colpita da presunti estorsori che continuano a operare in città, compiendo gesti vili nei confronti dell'ormai esiguo tessuto imprenditoriale che lavora onestamente e con enormi sacrifici. È toccato all'impresa a bos mode dell'imprenditore Giuseppe Cannavale che nella notte tra giovedì e venerdì scorso presso il proprio cantiere in località San Giorgio ha ritrovato una bottiglia con liquido incendiario e un accendino. L'accaduto di chiara ammattrice mafiosa è stato prontamente denunciato alle forze dell'ordine che con una pattuglia si sono recate sul posto. dopo aver espresso vicinanza all'imprenditore Cannavale fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine il presidente di Ance Crotone Villirillo ribadisce l'importanza della denuncia e della collaborazione con le forze dell'ordine ma a queste chiede un maggiore presidio del territorio. 12 indagati per peculato la guardia di finanza di Cosenza sequestra un fondo di garanzia della regione Calabria per oltre 12,5 milioni di euro. La guardia di finanza di Cosenza ha diffuso un comunicato con il quale viene annunciato che ci sono 12 indagati per peculato sequestro hanno sequestrato un fondo di garanzia della regione Calabria per oltre 12,5 milioni di euro gli indagati fanno parte secondo quello riferito dal capitano Melucci della guardia di finanza che ha eseguito le indagini fanno parte della giunta Loiero di ragazzo Loiero perché vi diciamo questo particolare perché nel 2009 i primi sei mesi abbiamo avuto la giunta Loiero nei secondi sei mesi del 2009 abbiamo avuto la giunta Scopelliti che con questa indagine magari per altri c'entrava ma con questa indagine dalla guardia di finanza di Cosenza non c'entra nulla Allora che cosa si legge nel comunicato Nella mattinata odierna la guardia di finanza di Cosenza ha eseguito un sequestro preventivo per un importo di oltre 12,5 milioni di euro di un fondo di garanzia istituito dalla regione Calabria nell'ambito del piano di azione finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro all'incremento occupazionale per l'anno 2008 il provvedimento cautelare si legge ancora nel comunicato della guardia di finanza risposto dal GIP del tribunale di Catanzaro su richiesta della procura della repubblica premesso il medesimo presso il medesimo tribunale scaturisce da articolate indagini svolte dalla compagnia di Cosenza sotto la direzione del procuratore di Catanzaro dottor Antonio Vincenzo Lombardo e del sostituto procuratore dottor Paolo Petrolo che hanno permesso di evidenziare condotte illecite posto in essere dai componenti della giunta regionale dell'anno 2009 unitamente ai dirigenti del settore 3 e 10 della regione Calabria grazie a Dio non mancano mai i dirigenti della regione quando ci sono indagini avvisi di garanzia questi pur consapevoli dell'insolvenza patrimoniale e della completa inaffidabilità di imprese che avevano richiesto l'assegnazione dell'incentivo nell'ambito del progetto piano di azione hanno costituito illegittimamente un fondo posto indirettamente a garanzia delle stesse aziende distraendo in ragione del proprio ufficio risorse economiche destinate ad altre finalità in questo modo si legge ancora nel comunicato della Guardia di Finanza di Cosenza la regione Calabria che doveva essere soggetto garantito contro il rischio di inadempienti da parte delle imprese beneficiarie del contributo è divenuta soggetto garante facendo ottenere alle imprese si legge ancora in questo comunicato coinvolte un ingiusto e duplice vantaggio di fatti le stesse aziende da una parte sono accaparrate di finanziamento pubblico la cui concreta erogazione era assoggettata all'obbligo di presentare polizze fiduciorie bancarie previste proprio al fine di garantire l'ente erogatore la regione Calabria da qualsiasi rischio patrimoniale e dall'altra sono rimasti immuni dalle conseguenze di un proprio inadempimento in quanto in tal caso a rispondere sarebbe stata la medesima regione Calabria con il fondo di garanzia all'uopo istituito e stamani sottoposto a sequestro dalle fiamme gialle cosentine in particolare scrivono scrive la guardia di finanza di cosenza tra le fondi di garanzia è stato creato con il reciproo scopo di salvaguardare l'istituto di credito dal rischio di rilasciare polizze fiduciorie ad imprese già considerate poco affidabili ad alto rischio di solvibilità quindi qui insomma ce n'è un po' di tutto c'è un po' di tutto soldi che vengono date ad aziende ad alto rischio di solvibilità e quindi ci sono indagini che riguardano quasi tutta la giunta dell'epoca la giunta loiera dell'epoca e alcuni dirigenti che come dicevo prima non mancano mai Barbara Cerminara giudice onorario della tribunale di Crotone nonché vice coordinatrice regionale dei magistrati onorari di tribunale ha dato il via ieri ad uno sopero della fame contestualmente alla protesta nazionale dei magistrati onorari messa in atto in questi giorni da quasi tutte le sigre sindacali si contesta l'annunciata riforma della giustizia che penalizzerebbe i magistrati onorari Sanità Calabria in fondo alla classifica che emerge dall'elaborazione dei numeri del programma nazionale esiti 2014 di Agenas l'agenzia per i servizi sanitari regionali e il ministero della salute la qualità delle cure per quanto riguarda la sanità in Calabria è all'ultimo posto e lo dice non lo dice nessuna non lo dice nessuno che se l'è inventato è a dirlo è l'agenas l'agenzia per i servizi sanitari regionali quella l'agenzia nazionale che fa i conti sull'attività delle aziende per conto del governo nazionale emerge appunto questo dato sul cattivo funzionamento della salute regionale da questa agenzia e dal ministero della salute sono loro che hanno diffusi questi dati mentre in Calabria che non è solo in questa negatività anche se la Calabria la percentuale è più alta in Calabria a buona compagnia con la Campania con la Puglia e altre regioni meridionali quelli che invece possono presentare i conti a posto che producono una sanità positiva che danno un'offerta sanitaria positiva per le proprie popolazioni sono la Toscana la Val d'Aosta la provincia autonoma di Trento che hanno ottenuto la più bassa percentuale di indicatori negativi però non non so se mi sono spiegati al contrario quindi hanno queste regioni che abbiamo che abbiamo detto sono le migliori rispetto alla media nazionale la giunta comunale di Cotronei su richiesta dell'assessore alla pubblica istruzione Isabella Maddia ha deciso di finanziare per un mese il servizio di assistenza e integrazione scolastica a favore degli alunni diversamente abili residenti nel comune di Cotronei si tratta di un prevedimento volto a garantire continuità al servizio pomeridiano in attesa del nuovo bando del Copros che dovrebbe nuovamente finanziare il servizio stesso per i prossimi mesi oggi a Crotone iniziativa di Forza Nuova Piazza Pitagora Forza Nuova questa mattina ha acquistato cassette di mele di prugna e l'ha distribuita ai cittadini più che acquistato diciamo che sono degli agricoltori che piuttosto che farsi tassare dallo Stato hanno preferito donarla a noi sapendo che ne facciamo buon uso e l'uso l'avete regalato l'abbiamo regalato come tutte le nostre cose Che iniziativa è questa? Forza Nuova come solidarietà nazionale la solita solo per gli italiani perché sappiamo che se non ci aiutiamo fra di noi non possiamo aspettarci aiuto da nessun altro Ok, grazie Parzialmente nuvoloso visibilità ottima e vento di 17 nodi il tempo previsto per domani su Crotone e Provincia ed ora il bollettino nautico del Marlioni o tempo vento da nord forza 3 rotazioni da sud e sereno poco nuvoloso visibilità buona mare poco mosso in aumento tendenza vento da sud ovest forza 5 particolarmente nuvoloso bene la nostra informazione per oggi termina qui io vi ringrazio per essere stati con noi vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni arrivederci vi ringrazio per la visione